Nella grandissima stagione che sta disputando il Cagliari c'è sicuramente un protagonista che si sta prendendo la squadra sulle spalle, Raja Nainggolan. Un rendimento eccellente quello del Ninja, che ha messo insieme 14 presenze condite da 4 gol e 4 assist. Il calciatore veste i colori rosso-blu soltanto in prestito, per di più secco, senza alcun diritto di riscatto. Significa che a fine stagione tornerà a Milano. Per l'Inter Nainggolan è un capitolo chiuso, non rientra nel progetto. Ma in casa nera azzurra è però sorta un'idea, proporre al Cagliari uno scambio Nainggolan-Nandez. Evidentemente il club sardo potrebbe assorbire il costo del Ninja solo grazie ad una supervalutazione dell'uruguaiano, oltre i 40 milioni. Ma così l'Inter riuscirebbe a dare un senso all'investimento fatto nel giugno 2018 per l'ex romanista. La commissione mista Afe Liga ha respinto la denuncia di Arturo Vidal nei confronti del Barcellona, in quanto non ci sarebbe alcuna mancanza da parte del club su 2,4 milioni di euro richiesti dal calciatore, bensì un'errata interpretazione proprio da parte del centrocampista. Il cileno potrà ora rivolgersi alla giustizia ordinaria qualora voglia procedere nella vicenda. Vidal tramite i suoi avvocati aveva chiesto il bonus sulla base di una clausola il 60% delle partite giocate sul contratto, che però, secondo la decisione della commissione, era interpretabile da parte del Barcellona. Per ritenere che una partita sia stata effettivamente giocata, solitamente nei contratti si parte da un minimo di 45 minuti, e non sempre Vidal ha raggiunto quel minutaggio, portando dunque la commissione a respingere la sua richiesta. Vidal avrebbe infatti giocato solo il 51,66% delle partite, scendendo in campo per almeno 45 minuti solo in 31 occasioni su 53. Pertanto il Barcellona ritiene le richieste di Vidal illegittime, parere che è stato poi confermato anche dalla commissione Afe Liga. Per il club Laugrana si tratterebbe solo di uno strappo da parte del giocatore per forzare la sua partenza a direzione Milano, Sponda Inter. Bagno di folla per Zlatan Ibrahimovic a casa Milan. L'attaccante svedese si è presentato in conferenza stampa, poi uscito sul piazzale della sede rossonera per salutare i suoi vecchi tifosi, che lo hanno riabbracciato da eroe. In conferenza Ibrahimovic si è detto pronto per giocare e non certo intenzionato a fare da mascotte. Sul legame con la società rossonera ha ribadito, il Milan è casa mia, ho grande voglia di Milan, voglio bene a questo club. Su quando avrà l'esordio resta il punto di domanda, ma l'impressione è che Ibra farà di tutto per essere convocato e avere almeno un posto in panchina nella gara di lunedì a San Siro contro la Sampdoria. Potrebbe tornare alla Roma con un ruolo nello staff tecnico Daniele De Rossi, che nel frattempo rimane un giocatore del Boca Junior. Finora la sua esperienza in Argentina non è andata secondo le aspettative, con sole cinque partite giocate da quando è sbarcato a Buenos Aires lo scorso luglio, colpa dei diversi infortuni che lo hanno lasciato fuori dal campo per più di due mesi. Adesso il tecnico Alfaro e il presidente Angelici dovranno fare alcune considerazioni su De Rossi. Il centrocampista nelle prossime settimane sarà visionato attentamente dal nuovo staff tecnico e dai vari dirigenti. Se l'ex bandiera della Roma dimostrerà una buona condizione atletica e le sue prestazioni saranno in crescendo, allora potrebbe arrivare in rinnovo con il club argentino per un'altra stagione.